Bene, siamo tornati in diretta. Io naturalmente ho lasciato il dottore Vendramine con due domande per quanto riguarda, almeno personalmente, che trovo curiose. Quindi la situazione, dicevo, di fronte al CERT è enfatizzata dalla stampa, si parla sui giornali, insomma, in questi giorni di spacciatori che in cambio di sesso, logicamente, vanificano il vostro lavoro. Io so che anche tempo fa tre nordafricani erano stati arrestati grazie appunto all'impegno dei cittadini che avevano notificato passo passo gli spostamenti, gli usi, i costumi, insomma, di questi spacciatori, proprio di fronte al CERT, ai colli. E successivamente vorrei toccare anche la tematica dell'HIV che sembrerebbe scomparsa, almeno dalla cronaca e anche dai discorsi che si fanno in giro. A lei la parola. Allora, anche questa volta andiamo per ordine, insomma. Prego. Allora, che intorno a un servizio a cui si rivolgono persone che hanno problemi di uso di sostanze illecite ci siano chiaramente questi personaggi, per certi aspetti anche comprensibili, insomma. È normale, insomma, cioè nel senso che... È disdicevole, però chiaramente, insomma, voglio dire... Tu dici c'è la debolezza da parte di qualcuno e io che sono senza scrupoli cerco comunque di approfittarne. C'è uno che deve vendere alcolici, insomma, è un po' difficile che vada dove sono tutti astemi, insomma. Anche lì noi abbiamo una guardia giurata, abbiamo due o tre guardie giurate che ruotano. Intorno appunto all'edificio che stiamo strano. Sì, no, ma voglio dire, però in servizio ce n'è sempre una, insomma, che deve garantire. La sicurezza del personale, perché, per carità, adesso io, quando ho dato i numeri, non dobbiamo immaginare che le mille persone che hanno problemi di uso di sostanze sono tutti degli scatenati, insomma, la maggior parte sono persone che hanno questo problema... E cercano di uscirne. E che non hanno dei disturbi del comportamento tali per cui, non so, ma voglio dire, al dottor Mendramini una volta è capitato anche di aver dovuto portare il collare due mesi, insomma. Ecco, sono una piccola percentuale. Ne parlavamo proprio anche ieri perché, in seguito all'articolo sul giornale, il mio personale, soprattutto infermeristico, l'educatore, rimangono anche male, perché dico, ma finiamo sempre sul giornale per queste cose, nessuno mai ci dice bravi per quello che facciamo. E io dico, come Garibaldi con i mille, dico, beh, ve lo dico io. Lei sa bene, io stamattina vi ho detto che l'ho chiamata proprio per questo, per ricordare ciò che è il vostro impegno, ciò che fate, perché basta un articolo a vanificare anni e anni di impegno, di lavoro, e le persone poi neanche sanno alla fin fine, perché se non ti tocca sulla pelle, quindi si parla di magari sventure familiari, uno neanche lo sa cosa fate e che cosa c'è lì all'interno. Uno scioccamente può pensare, eh, lì distribuiscono il metadone, ciao e stop, eh no, eh no. Io ho parlato anche di marijuana inizialmente, perché so che è anche comunque tra le varie lotte che conducete, e in più so addirittura che tutte queste droghe, pensate un po', la difficoltà loro sta nel fatto che c'è un glossario, diciamo, di varie sigle, di vari principi attivi, che viene logicamente pian pianino aggiornato, ma chi crea chimicamente tutte queste droghe, logicamente va a studiare un qualcosa che non sia inserito in questo glossario, così da poter dire è legale, non è inserito tra le cose illegali. Le ultime varie mode erano quelle, pensate dai ragazzini, di fumarsi i profumi per ambiente o per la macchina, al principio attivo di marijuana. Certo. Ma sono finiti all'ospedale ragazzi, ma che stiamo scherzando? Sì, anche perché ora ci sono i cannabinoidi sintetici. Esatto, esatto. Le smart droghe si chiama. E lì ci vorrebbe un giorno intero di... Quindi c'è questa guardia giurata? Dicevo, c'è questa guardia giurata che ovviamente poi la nostra struttura è lunghissima, quindi per esempio da dove è il mio studio a dove c'è il fermeristico, sono svariate, svariate, svariate decine di metri, insomma, poi abbiamo fuori una specie così di giardinetto e quindi ovviamente anche questa persona non è che riesce a controllare tutto, insomma, nel senso che... Ma anche qui, in un momento di ristrettezze, io non posso andare a prendere per il collo i miei direttori dicendo guardate che io di guardia giurata ne voglio tre. Capisce? Cioè, se dobbiamo... Viviamo un momento in cui dobbiamo contare i cerotti, adesso esagero, insomma, è chiaro che dobbiamo... Ora, vediamo, dice, l'articolo sul giornale, però, guardi, se l'articolo sul giornale serve magari per attirare un po' più di attenzione, per attirare un po'... Per far venire una volante in più ogni tanto... Però, vede, anche lì, siccome noi viviamo in un sistema, insomma, i nostri rapporti e i miei personali, insomma, con gli amici della questura, il dottor Calì, tutti i questori che hanno preceduto l'attuale, sono sempre stati ottimi. Però, voglio dire, insomma, anche loro fanno il massimo del massimo. Certo. E proprio le cose che noi abbiamo letto, purtroppo, questi giorni sui giornali, di cui lei, dopo che io me ne sarò andato, parlerà... E alle volte, sa, queste persone si devono trovare a fare una scelta di priorità. Capisce? Sì, sì, capisco. Ma dove corro? Dove c'è quello che è? Purtroppo si è ritrovato una ragazza, un cadavere di una ragazza, insomma, nel lago di Garda. Che faccio? Vado a vedere fuori dal CERT, mando la volante di qui o mando di là? Questa è la pregatura del nostro paese. Oppure c'è quello che sta prendendo a martellate la moglie, insomma... Esatto, questa è la mancanza di risorse che alla fine vanifica tutti gli sforzi. Le chiedo, allora, in ristrettezza, quale potrebbe essere, se esiste, una ricetta proprio per evitare questo? Non lo so, non so, non ne so. Ma, voglio dire... Il fatto è che voi combattete, cercate di far capire questi ragazzi che si butta via la propria personale vita e poi ti trovi quello fuori davanti che... Guardi, adesso, anche il fatto che magari i cittadini si facciano parte di gente, voglio dire, ognuno poi ha i suoi sistemi, c'è quello che fa l'asta, che è quell'altro... Ma anche, semplicemente, alle volte allertando le forze dell'ordine, dire guarda, ho visto che... Esatto, come per gli ammessi di cui ho parlato, dei tre nordafricani. E questo va benissimo, insomma. Anche, per esempio, tutte le forze, tutte le polizie che abbiamo sul nostro territorio, insomma, ripeto, fino a che ci sarò io, non trovano una porta aperta, ma un portone spancato, insomma, nel senso che voglio dire, anche noi non abbiamo nessun interesse che il CERT sia un portofranco di malaffare. Voglio rispondere anche all'altra domanda che lei mi ha fatto. Sesso in cambio di droga. Purtroppo, questa è una problematica che c'è sempre stata, insomma. Ora, c'è sempre stata dentro i parchi, c'è sempre stata dentro i giardini, soprattutto nelle grandi città, insomma. Cioè, che ci siano delle persone che arrivano a prostituirsi per arrivare... Certo, purtroppo abbiamo sentito anche qui cronaca di ragazzine condiscendenti con le mamme, oppure per avere le ricariche del telefonino, la borsettina di moda... Adesso, il posto così scelto anche o comunque citato in articolo è un po' inconsueto. Non posso passare per stupido fingendo di non sapere, e lo so perché, ho detto, conosco la vostra zona, conosco bene ciò che c'è e non c'è. La porta verde che si vede è quella della polizia provinciale come ufficio. Questo mi sconvolge, nel senso, ma noi ci occupiamo di tutt'altro. La nostra competenza è quella di... Ho capito, però se c'è uno spacciatore o se ci sono delle situazioni di degrado, buttalo un occhio. Dico male? Lei mi ha detto, ci sono i tagli, ci sono delle ristrettezze, ci sono anche i lacci lacciuoli del fatto che io ti arresto e il giorno dopo comunque sei fuori. Sì, anche questo è un altro. Però, caspita, è lì la polizia provinciale. Anche questo è un altro... Ma io ora mi sono riferito alle ristrettezze, per esempio a quelle dell'URSS. Guarda, io penso questo, anche perché ci conosciamo da tanti anni. Se il dottor Pigatto, che è stato proprio un responsabile di CERT, credo lo sia ancora in aspettativa, perché ormai è Modiani che fa il direttore dei servizi sociali, potesse mandarmi tre guardie giurate, lo farebbe. Ma evidentemente, pensi questo, che noi spendiamo, perché sembra sempre metà donne. Noi abbiamo una spesa annua per mandare le persone in comunità terapeutica vicina ai 3 milioni di euro. Lei ci crede che stamattina i miei collaboratori mi hanno segnalato, e dice, guardi dottore, che dobbiamo cominciare a frenare, perché altrimenti sforiamo. Certo, e sforate poi per aiutare la gente alla fine fine, non per andare a ballare. Capisce, però è vero anche quello, che vediamo, come facciamo? Sono finiti i tempi in cui si pagava a piedi lista, insomma. L'HIV, ecco, la ringrazio... Siamo in fusura, quindi vi chiedo di essere proprio un flash shot. L'HIV non è debellato, c'è ancora, ogni tanto ne vediamo ancora qualche caso, soprattutto per trasmissione sessuale, rarissimamente, proprio qualche persona molto compromessa che ancora va per via di siringa, ma è rarissimo. Certamente oggi le nostre malattie infettive fanno un enorme lavoro, certamente non è più un dramma come qua in Italia, in altri paesi è un dramma. Quello che è cambiato, sono cambiate, mentre una volta la malattia era mortale, adesso è una malattia di cui non si guarisce, ma si cura. Ovviamente, anche qui, con costi che sono elevati, elevatissimi. E allora tutto questo messo insieme... E non è di certo comunque una malattia che, anche se curabile, nel senso di si convive, sia positivo avere, quindi mi raccomando. Allora, io ringrazio il dottor Andrea Vendramin, del Dipartimento per le Dipendenze dell'Asa 16 di Padova. Ricordo sempre i nomi e i cognomi e anche, appunto, le location, come dicono gli americani, proprio perché se magari, e io mi auguro di no, qualcuno avesse bisogno, comunque sappiate che ci sono degli enti predisposti per aiutare quando qualcuno è in difficoltà. È facile fare i titoloni sui giornali e in televisione, ma ricordatevi che degli angeli comunque ci sono sempre a nostra disposizione. Grazie, io lancio il meteo per sapere domani il tempo se fa le bizze o meno e dopodiché si parla di un'altra tematica purtroppo non felice, i delitti in famiglia. Vi attendo, naturalmente, sempre qui a Dai Reporter per te. A voi tutti buon proseguimento di settimana da Giuseppe De Vettis, almeno fino alla giornata di giovedì. Guardate, temperature gradevoli, quindi senza eccessi di caldo, valori compresi massimi tra i 21 e i 29 gradi centigradi ed avremo a tratti anche della instabilità. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nella giornata di mercoledì. A risveglio avremo un po' di nuvole, soprattutto sull'Emilia Romagna. Sulla Romagna avremo dei rovesci di pioggia proprio al mattino, poi tenderanno gradualmente ad esaurirsi in Romagna. Non escludiamo qualche scroscio di pioggia sull'Appennino, Tosco Emiliano e Romagnolo, ma attenzione, i rovesci di pioggia si formeranno, ci saranno anche sui rilievi, vedete, del Veneto e sul Trentino Alto Adige, proprio nelle ore centrali della giornata, quindi nel pomeriggio. In serata la situazione tornerà tranquilla dappertutto, con cielo poco nuvoloso, vediamo le temperature, iniziamo dalle temperature minime, avremo minime comprese tra i 15 e i 19 gradi centigradi, temperature massime, come detto, piacevoli, valori caldi ma senza eccessi, avremo infatti temperature comprese tra i 24 e i 27 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana. Grazie.